Pacchi insanguinati con occhi di animali sono i messaggi intimidatori spediti in questi giorni alle sedi diplomatiche ucraine in almeno 5 paesi europei, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Croazia e Italia. Gesti che hanno indignato il ministro ucraino agli affari esteri Dimitro Kuleba che parla di una campagna pianificata di terrore e intimidazione. Episodi che inducono le autorità ucraine ad alzare il livello di sicurezza presso le loro sedi diplomatiche. I gnoti hanno anche danneggiato l'ingresso alla residenza dell'ambasciatore dell'Ucraina in Vaticano. Sono riusciti ad entrare nel palazzo a Roma dove risiede l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede e hanno coperto di escrementi la porta d'ingresso, le scale e le pareti. Al consolato ucraino che ha sede a Napoli invece è arrivata una bussa contenente occhi di animali. Un pacco insanguinato anche all'ambasciata ucraina di Madrid dove nei giorni scorsi erano arrivati pacchi incendiari. La polizia spagnola ha circondato il perimetro della rappresentanza diplomatica per motivi di sicurezza. Peraltro le autorità iberiche erano in allerta già da giorni. Grazie. Grazie. Grazie.